Chi segui The Rose sa benissimo che c'è stata un'evoluzione nella costruzione dei pezzi e nella stesura delle liriche, dei testi. Se uno alla nostra età scrive ancora le stesse cose che scriveva a vent'anni, sì, può andar bene, però secondo me no, anche perché le nostre canzoni sono sempre comunque autobiografico, sono comunque delle istantanee di quel momento della nostra vita e di conseguenza la nostra vita cambia, abbiamo figli, ci cresce, ci sono altre tematiche, altre esperienze, tantissime esperienze di vita, cambiano gli stili di vita, cambia quello che ci sta intorno e le nostre canzoni cambiano con loro. Un artista che scrive la canzone d'amore per 60 anni di carriera per me è di una tristezza in odio, non ci posso credere che almeno una volta non si sia incazzato, abbia scritto qualcosa.